Ciao, ben trovato. Con questa lezione introduciamo uno degli elementi importanti che caratterizzano il segreto italiano, ossia le ragioni per cui le imprese italiane sono sulla breccia da ormai più di 60-70 anni e hanno definito un carattere di eccellenza dell'industria italiana, dell'impresa italiana del mondo. E parliamo di Made in Italy, ti parlerò di Made in Italy, che è un elemento che caratterizza, è un elemento fondante proprio dell'eccellenza italiana, dell'industria, dell'impresa italiana nel mondo. Utilizzando come riferimento, utilizzando come verifica due settori che caratterizzano più di ogni altro il Made in Italy, caratteristica fondante del segreto italiano, che sono la moda e il design. Il segreto italiano fa parte del Made in Italy, è parte integrante, come vedi, del segreto italiano. Ma che cos'è il Made in Italy? Poniamoci il problema di che cos'è il Made in Italy, che è diventato nel linguaggio comune una caratteristica dei prodotti italiani all'estero. Made in Italy significa, nella percezione dei consumatori, degli acquirenti, di tutto il mondo, significa essenzialmente buon gusto. Significa che i prodotti italiani che vanno appunto dalla moda al design industriale, ai mobili, al design applicato alle automobili, significa che sono prodotti di buon gusto, che piacciono. Questa è l'essenza intima del Made in Italy. Poi si possono anche, come dire, accodare, aggiungere altri elementi, quali il prezzo, la pubblicità, tutto quello che vuoi, però sostanzialmente Made in Italy significa prodotti di buon gusto, che piacciono ai consumatori di tutto il mondo, a prescindere da quale sia il luogo in cui vivono. Quindi potremmo definire una sorta di estetica comune. E si è trattato di un percorso che si è compiuto nel corso degli anni, dei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, perché inizialmente Made in Italy non aveva questo significato. Made in Italy era semplicemente un marchio che veniva utilizzato alle dogane, per le merci che passavano le frontiere, per identificare il fatto che alcuni prodotti erano fabbricati in Italia. Ora, nel corso del tempo, nel corso dei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, questo marchio, che aveva finalità puramente di carattere doganale, si è trasformato in un brand. Che cos'è un brand? Un brand è una marca, ossia un segno, un simbolo, un'etichetta, se vuoi, che identifica un prodotto con tutta una serie di caratteristiche peculiari. Le marche più famose sono la Nike, la Coca-Cola, l'Adidas, per rimanere in ambito sportivo, in ambito del McDonald's, è un grande brand. Ebbene, tutti questi brand, tutte queste marche che io ti ho citato, che ti ho menzionato, si riferiscono ad un'azienda, nello specifico. Mentre invece Made in Italy è un brand, è una marca, che copre tutti i prodotti che escono dall'Italia. Tutti i prodotti caratterizzati, come ti dicevo, da buon gusto, che sono apprezzati nel mondo perché sono simbolo, sinonimo di buon gusto. E questa trasformazione, questo percorso, come dicevo, si è avviato a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Benissimo. Allora, perché parliamo di moda e design? Perché parliamo di questi due settori? Perché sono i due settori in cui il Made in Italy ha trovato efficace applicazione, ha trovato, ha sfondato, diciamo così, sui mercati di tutto il mondo, per quelle ragioni che dicevo prima, cioè soprattutto di buon gusto. Moda e design sono i due settori in cui l'estetica, ovviamente, come tu sai benissimo, giocano un ruolo fondamentale. Bene, allora, andiamo a vedere quando comincia, quando si mette in moto questo meccanismo che trasforma il buon gusto fatto in Italia in una marca, in un brand apprezzato in tutto il mondo. Il primo settore che si muove, il primo settore che effettivamente comincia a costruire questa reputazione di buon gusto nel mondo, è proprio quello della moda italiana. Perché? Perché la moda italiana, perché ha avuto questa importanza? La moda italiana ha avuto questa importanza perché già prima della Seconda Guerra Mondiale, già nel periodo tra le due guerre, in Italia si affermano una serie di attività, una serie di stilisti, li potremmo chiamare con un termine attuale, anche se non si adatta molto all'epoca, ma per intenderci va bene così, una serie di stilisti, di designer che lavorano nel campo della moda, che hanno cominciato a far conoscere questa attitudine, questa capacità, diciamo così, di creare oggetti di buon gusto in Italia nel mondo, e in particolare negli Stati Uniti, in particolare in America, sul mercato statunitense. Due nomi sono quelli che identificano, caratterizzano questo avvio di percorso della moda italiana nella conquista di una reputazione internazionale, che sono Salvatore Ferragamo ed Emilio Pucci. Sono due creativi, sono i suoi designer, sono due stilisti che già prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale erano conosciuti sul mercato americano perché facevano, realizzavano degli articoli di abbigliamento, nel caso di Ferragamo le scarpe, nel caso di Emilio Pucci abbigliamento femminile, di buon gusto, riconosciuti come tale. Quindi nel mercato americano c'era già, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, un'attenzione, una sensibilità rispetto a quest'idea che in Italia si facessero cose di buon gusto, cose di gusto, cose apprezzate per l'abbigliamento. E queste premesse, diciamo così, vengono sviluppate poi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando comincia tutto il mondo ritorna alla pace, fortunatamente, comincia la ricostruzione in Italia, le attività economiche si riprendono e c'è un'iniziativa importante che vuol mettere assieme, punta a mettere assieme tutta una serie di esperienze, di sarti, di creativi, di stilisti, come abbiamo detto prima, che operano in Italia per proporli proprio al mercato americano. Perché è il mercato americano? Per due ragioni essenziali. La prima è quella che ti ho appena detto, cioè il fatto che negli Stati Uniti c'era una certa sensibilità nei confronti del prodotto italiano. La seconda e forse più importante ragione è che in un'Europa devastata che è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, piena di distruzioni, di morti e che è in condizioni economiche estremamente difficili, la possibilità di trovare dei consumatori, degli acquirenti, trovare un mercato in Europa era molto difficile. Gli Stati Uniti rappresentavano il mercato più importante, più promettente, perché, come certamente sai, la guerra non ha toccato direttamente negli Stati Uniti, non è stata combattuta negli Stati Uniti, benché gli Stati Uniti abbiano fornito mezzi, uomini, abbiano partecipato alla Seconda Guerra Mondiale e abbiano contribuito a vincerla. Però appunto l'economia interna, il territorio interno degli Stati Uniti non è stato devastato dalla guerra come l'Europa. Quindi il mercato americano rappresenta appunto il mercato più importante, il mercato più promettente per accogliere i prodotti italiani. E allora c'è l'iniziativa di questo signore che vedi nella fotografia, che è un signore fiorentino, che il 12 febbraio del 1951 inventa la moda italiana. Cosa significa inventa la moda italiana? Significa che riunisce un gruppo di artigiani, stilisti, sarti, che operavano nel mondo della moda e organizza una sfilata. Qui sulla slide vedi il testo dell'invito inoltrato appunto alle case di moda italiane, possiamo chiamarle anche così, c'erano artigiani, stilisti, sarti, un po' di tutto come ti dicevo prima, però chiamiamo le case di moda italiane affinché presentassero i loro modelli in una sfilata che si sarebbe tenuta il 12 febbraio 1951 a Firenze a casa di questo signore. A questa sfilata, questo signore che si chiama Giovanni Battista Giorgini, aveva invitato tutta una serie di personaggi importanti provenienti dal mondo americano che rappresentavano il mercato statunitense. Chi erano questi personaggi? Principalmente di due tipi, giornalisti specializzati nel settore della moda e soprattutto i cosiddetti buyers. Chi sono i buyers? I buyers sono degli intermediari commerciali che si muovevano in giro per il mondo, andavano a vedere che cosa si produceva di bello in giro per il mondo e acquistavano questi prodotti in giro per il mondo per conto dei grandi magazzini americani. Grandi magazzini americani, i cosiddetti department stores, erano magazzini, grandi magazzini di lusso, rivolti in una clientela facoltosa, che proponevano una gamma ampia di prodotti di alta qualità. E quindi Giorgini organizza questa sfilata all'indomani immediatamente successiva alle sfilate che si tenevano a Parigi. Parigi era la capitale della moda mondiale almeno dalla fine del 1800 e ha continuato ad esserlo per tutta la prima metà del 900 fino allo scoppio della guerra. Con la fine della guerra e il ritorno alla pace Parigi è tornata immediatamente ad essere la capitale della moda mondiale e l'ambizione di questo signore l'ambizione delle case di moda italiana era quella di sfidare Parigi di sfidare Parigi e quindi subito dopo la fine delle sfilate parigine questo signore Giorgini invita buyers cioè acquirenti intermediari e giornalisti che erano in Europa per seguire in Francia Parigi per seguire le sfilate parigine e dice sapete cosa c'è venite anche a Firenze una bellissima città la culla del rinascimento e vi faccio vedere che cosa sappiamo fare noi vi faccio vedere cosa sa fare l'Italia nel campo della moda e non rimarrete delusi e non rimarrete delusi e diverse case di moda italiane rispondono all'appello di Giorgini qui vedete nomi che probabilmente vi lasciano vi lasciano indifferenti perché sono sono case di moda che in gran parte non esistono più a parte forse le sorelle fontane di cui forse avete sentito parlare perché c'è stato uno sceneggiato non molto tempo fa sulle reti Rai abbastanza interessante che ha ricostruito la storia di questa casa di moda c'è Emilio Pucci di cui vi ho parlato prima ecco però sappiate sappi che queste case di moda erano tra le più importanti tra le più creative tra le più innovative del panorama italiano di quel primissimo di quell'inizio anni 50 e queste case di moda rispondono e presentano intervengono presentano le loro le loro collezioni vedete la sproporzione tra Firenze e Parigi a Firenze vengono presentati 180 modelli contro i 5.000 di Parigi e anche la sproporzione delle persone che hanno aderito a questo invito dal punto di vista statunitense vedete i buyers americani sono solo 8 contro i 400 presenti a Parigi però rappresentano qui vedi i nomi rappresentano importanti department stores nelle principali città nelle principali città nordamericane New York City ovviamente ma anche San Francisco anche Montreal ecco e quindi una sfida portata alla moda portata alla moda parigina che viene lanciata dalla moda italiana e fu un successo straordinario fu un successo straordinario un successo talmente grande talmente epocale che la sfilata successiva venne anticipata a distanza di circa 6 mesi a luglio quindi si passò subito alle due sfilate per anno non alla sfilata una per anno come era come era stata prevista prevista inizialmente per il grande successo che aveva ottenuto e già alla seconda sfilata vedete intervennero 350 buyers americani e 28 giornalisti e addirittura vedete solo un anno dopo nel 1952 Firenze secondo il New York Times avrebbe potuto sostituire Parigi era pronta a sostituire Parigi come capitale mondiale della moda nei decenni successivi 53 54 e poi negli anni 60 fino ad arrivare i giorni nostri il successo della moda italiana non ha cessato di continuare di crescere di allargarsi di diventare veramente la cifra caratteristica l'elemento identificativo del made in Italy e da questo primo evento nel 1951 da questa prima sfida da questa iniziativa fiorentina contro in competizione in concorrenza con l'alta moda parigina che la faceva all'epoca la padrone è nato il percorso la strada del successo della moda italiana come elemento caratterizzante identificativo del made in Italy a sua volta etichetta del segreto italiano tuttavia appunto non solo moda non solo moda più o meno in quegli stessi decenni un po' più tardi perché come ho detto prima la moda è quella che parte per prima ma nel ciclo di qualche anno anche altri settori si affermano in particolare il settore del design italiano che possiamo suddividere in due rami diciamo così quello del mobile da un lato e quello del design industriale più in senso stretto e per quanto riguarda il modi anche per quanto riguarda il mobile abbiamo dobbiamo osservare che c'è stato un evento così come nel caso della moda che ha dato l'avvio che ha dato la stura alla nascita di questo settore del made in Italy alla nascita dell'immagine del design del mobile italiano come espressione di buon gusto nel caso specifico possiamo anche dire che nel caso del mobile abbiamo la combinazione fra buon gusto e funzionalità buon gusto e funzionalità l'evento di cui ti ho parlato l'evento al quale ho fatto riferimento che fa il paio diciamo così con la sfilata la prima sfilata del 1951 è il salone del mobile il salone del mobile che esiste come sai ancora oggi a Milano una fiera in cui si presentano appunto i prodotti italiani nell'ambito del mobile dell'arredo di interni che viene lanciato viene aperto nel 1961 ma le prime le prime le prime edizioni del salone del mobile non ebbero un grandissimo successo non ebbero un grandissimo successo perché perché ancora il mobile italiano era molto legato alla all'estetica tradizionale si facevano soprattutto mobili di imitazione dei mobili antichi e la modernità non aveva ancora fatto breccia nell'industria del mobile tradizionale italiano questo avviene nel corso della prima età degli anni 60 tra il 61 e il 65 perché l'evento importante è il salone del mobile del 65 quando finalmente questa esposizione questa fiera di settore propone il prodotto della ricerca innovativa della collaborazione dei designer italiani con l'industria del mobile e quindi questo apre diciamo così spazi sempre più grandi di penetrazione sul mercato internazionale ancora qui anche in questo caso naturalmente il mercato statunitese è molto importante e anche il salone anche il mobile italiano diventa inizia il percorso che la porterà ad essere uno dei pilastri del made in Italy uno degli elementi che identificano caratterizzano il bon gusto italiano nel mondo applicato all'arredo di interni e al mobile la stampa internazionale come anche nel caso della sfilata di Firenze del 1951 anche nel caso del salone del mobile del 65 ha dato ampio risalto e ha dato grandissima diffusione alle soluzioni innovative proposte dai designer italiani e l'epoca in cui cominciano a diffondersi ad essere utilizzate in Italia le cucine le cucine all'americana le cucine che venivano acquistate venivano progettate venivano acquistate per arredare le case degli italiani che cominciavano ad essere ricostruite dopo la seconda guerra mondiale l'epoca in cui vengono costruiti grandi palati grandi condomini in cui si passa dalle case rurali dalle case di campagna che gran parte della popolazione italiana abbandona perché si trasferisce in città dicevo dalle case dalle case dalle cascine si passa agli appartamenti e i condomini nelle grandi città in cui gli spazi sono ridotti quindi è necessario ottimizzare l'arredamento degli interni rapportandoli diciamo agli spazi ridotti sono le cucine componibili qui vedi sul lato destro un paio di esempi di ricerca dei designer per trovare la soluzione più efficiente per utilizzare spazi ridotti quindi ricostruzione postbellica nuovi appartamenti piccoli però ridotti nei grandi condomini richiedono arredi funzionali rispetto a questi spazi che sono ridotti rispetto al passato e le cucine convolibili cosiddette all'americana realizzate però dagli italiani realizzate però dall'industria italiana del mobile sono la punta di diamante diciamo così del design del mobile italiano la definitiva consacrazione dei designer italiani applicati al campo del mobile è la grande mostra che si tiene nel 1972 al museo di arte moderna di New York in cui una mostra completamente dedicata all'Italia il cui titolo vedi è Italia il nuovo panorama domestico in cui vengono presentate i migliori prodotti del design italiano applicato al mobile qui in basso a destra vedi il manifesto la locandina di questa mostra di questa esposizione al museo di arte moderna di New York che ebbe un grandissimo successo qui ho indicato alcuni nomi di architetti che sono che sono stati protagonisti di quell'epoca e che hanno firmato come diremo oggi un gran numero di soluzioni innovative per l'arredo di interno un grande successo internazionale la mostra fu un grande successo internazionale che consacrò definitivamente il design italiano nell'ambito del mobile a livello internazionale l'altro settore è quello del design industriale cosa si intende per design industriale si intende il design applicato a tutta una serie di prodotti industriali che le aziende italiane cominciavano a produrre a distribuire sul mercato nell'epoca del boom economico della ricostruzione economica successiva alla seconda guerra mondiale da questo esempio puoi vedere chiaramente che si tratta di una tipologia di prodotti estremamente articolata e diversificata dalla vespa e dall'ambretta che erano i mezzi attraverso mediante i quali grazie ai quali le famiglie degli anni 50 e 60 si spostavano poi arriverà la 500 arriverà la 600 le prime automobili ma inizialmente gli italiani si spostavano con questi motocicli la vespa e la lambretta la cui estetica il cui design è elaborato da appunto designer importanti come questi che sono indicati lì la macchina per il caffè qualcuno può sorridere ma non dobbiamo dimenticare che il caffè è il caffè al bar il caffè espresso ecco il caffè espresso è forse possiamo definirla la bevanda nazionale italiana la bevanda nazionale italiana e quindi non ci deve stupire se i designer si siano anche applicati a disegnare a concepire soluzioni estetiche innovative per le macchine del caffè che andavano ad arredare i bar e i caffè dell'Italia e poi c'è il grande contributo della Olivetti con le macchine per ufficio e in particolar modo le macchine da scrivere come la lettera 22 e che anche questa è ancora esposta al museo di arte moderna di New York e poi il treno il primo treno veloce italiano il cosiddetto settebello anche questo disegnato da un architetto con formula con soluzioni innovative qui la lettera 22 a destra vedi la lettera 22 è la macchina da scrivere e qui una delle prime macchine per il caffè disegnate appunto da un architetto da un architetto specializzato nel design industriale e poi qui di seguito ti propongo alcuni prodotti simbolo di quell'epoca alcuni prodotti simbolo di quell'epoca con il relativo designer sono prodotti che sono stati premiati con il compasso d'oro il compasso d'oro è un premio per il miglior prodotto di design che venne istituito nel 1954 in Italia l'iniziativa fu del grande magazzino La Rinascente e anche il fatto che venne istituito che sia stato istituito questo premio per il miglior prodotto di design la dice lunga sull'attenzione sulla sensibilità che in Italia c'era all'epoca già nella prima metà degli anni 50 per lo sviluppo di questo settore del design industriale e qui vedi la 500 con il suo creatore il designer Dante Giacosa che lavorava all'ufficio stile della Fiat premiata con il compasso d'oro nel 1959 quindi siamo nel campo dell'automobile nel campo degli elettrodomestici gli elettrodomestici negli anni in cui stiamo parlando negli anni 50 60 entrano massicciamente nelle case degli italiani quelle case degli italiani di cui abbiamo detto prima entrano le cuciglie componibili ma le cuciglie componibili si accompagnano agli elettrodomestici che sono una novità assoluta per gli italiani prima di tutto il frigorifero prima o per tutto il frigorifero e poi successivamente la lavatrice o lavabiancheria e poi la televisione e poi finalmente la lavastoviglie e questa è una lavabiancheria il cui design è stato premiato vedete quel compasso d'oro nel 1960 la macchina del caffè ancora un'altra macchina del caffè disegnata da due famosissimi architetti designer i fratelli Castiglione compasso d'oro del 62 quindi anche qui si vede l'importanza assegnata alla a questo tipo di prodotto la macchina del caffè la macchina per il caffè che a noi sembra banale ma ti assicuro è un elemento allora prima di Starbucks naturalmente oggi con Starbucks le cose sono un po' cambiate ma allora la macchina del caffè espresso era un simbolo della cultura gastronomica italiana dell'epoca e ancora naturalmente questo è un'altra cosa è un altro tipo di prodotto è per fare il caffè in casa però la caffettiera la caffettiera anche questa per il caffè espresso anche questa frutto della ricerca stilistica di una azienda importantissima nel settore dei prodotti per la cucina l'Alessi l'Alessi tra l'altro ha un bellissimo museo nella sua sede in cui raccoglie tutti i prodotti del design industriale che ha messo sul mercato nel corso della sua lunga storia quindi anche qui c'è un legame fra design del prodotto design del prodotto industriale e tipologia dei consumi nel caso specifico tipologia dei consumi alimentari che stanno crescendo che stanno migliorando qualitativamente nel corso degli anni 50 e 60 gli italiani mangiano sempre meglio consumano di più escono da quella spirale di povertà nella quale si trovavano certamente durante gli anni della guerra ma anche prima della guerra non è che la cosa andassero benissimo quindi questi sviluppi nel settore del made in Italy moda da un lato design del mobile dall'altro e design industriale dall'altro ancora sono anche la risposta ad una cultura del consumo che si modifica soprattutto ad un benessere crescente da parte degli italiani oltre che degli americani che abbiamo detto prima quelli il consumatore americano già era diciamo così più favorito rispetto rispetto a quell'italiano già 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 durante la guerra già durante la guerra dobbiamo dire ecco quando si completa quando il cerchio si chiude completamente quando diciamo così avviene la consacrazione definitiva del made in Italy come brand come marca come ti ho detto prima e la consacrazione definitiva dei due settori moda e design suddivido in design del mobile e design industriale la consacrazione definitiva dicevo di questi settori come i pilastri del made in Italy avviene nel 2001 perché nel 2001 viene allestita a Milano una grande mostra una grande mostra che celebra la storia del made in Italy che celebra il successo del made in Italy quando si fanno le mostre quando si comincia a celebrare la storia di qualche cosa di qualche fenomeno beh vuol dire che quel fenomeno che quel percorso che quel processo è arrivato al successo definitivo vuol dire che è da tutti riconosciuto come un fenomeno sociale un fenomeno culturale ripeto universalmente riconosciuto come tale e quindi per questo io concludo questa mia chiacchierata con la grande mostra del 2001 che nel 2001 non a caso perché celebra i 50 anni dalla prima sfilata di moda avvenuta a Firenze nel 1951 come ti ho detto prima e che è considerata unanimemente come l'inizio te l'ho detto prima lo ripeto l'inizio del percorso che ha portato all'affermazione al successo definitivo del made in Italy tutto è cominciato con la moda ma c'è stata l'evoluzione poi parallela con un ritardo di un decennio non di più nei settori del design e quindi questa grande mostra sottopone invita gli italiani gli stranieri a vedere 50 anni di storia del made in Italy quando appunto nel 2001 made in Italy è già diventato non è più un marchio utilizzato dalle dogane per verificare i prodotti che venivano esportati ed erano fabbricati in Italia ma è diventato una marca è diventato un brand è diventato un segno che trasferisce l'idea come già ti ho detto del buon gusto della capacità di realizzare cose nuove creative di gusto estetico elevato e naturalmente la mostra è focalizzata su questi due settori moda mobili di design e design industriale e lo stesso catalogo della mostra presenta questi due settori cosiddetti design driven cioè in entrambi i casi si tratta di settori alimentati dalla creatività del design dall'innovazione del design dall'innovazione estetica questo significa design driven e che vengono presentati al pubblico internazionale attenzione questa espressione molto forte il più alto prodotto il prodotto più alto della nostra cultura quindi made in italy non è soltanto un'attività non identifica soltanto un'attività produttiva non identifica soltanto le aziende che operano in questi due determinati campi non significa soltanto capacità di esportare ma è un prodotto è il risultato della cultura italiana passaggio molto importante questo il prodotto made in italy non è soltanto un prodotto che si vende è un'espressione della cultura italiana e il passaggio successivo che sottopongo alla tua attenzione è questo il fatto che in quell'epoca all'inizio degli anni 2000 quando appunto viene presentata questa mostra l'idea di made in italy si modifica ancora made in italy non soltanto rappresenta un prodotto delle aziende italiane non soltanto rappresenta un prodotto della cultura italiana ma rappresenta anche un modo di vivere un modo di essere uno stile di vita che è quello caratteristico dell'italia cito questa frase che è alla fine del del catalogo della mostra e quindi made in italy significa uno stile di vita che si identifica con la dolce vita il famoso film di Fellini che rappresenta la realtà romana di quegli anni il parmigiano il parmigiano ti dicevo prima della connessione fra made in italy prodotti del made in italy e consuetudine alimentare e tradizione gastronomica il vino solaia un vino toscano che all'epoca era in grande spolvero era molto era molto apprezzato e naturalmente le ferrari e qui vedi il mix che oggi di elementi che oggi compone identifica il made in italy non solo prodotti non solo buon gusto ma un metodo uno stile di vita una cultura del consumo una cultura del consumo che identifica l'italia come paese con tutti i suoi cittadini con il suo modo di vivere quindi made in italy ormai va oltre addirittura la marca oltre il brand ti ho detto prima il passaggio dal è avvenuto un passaggio dal marchio alla marca certamente ora siamo addirittura oltre la marca siamo in una rappresentazione nella rappresentazione di un modo di essere di un modo di vivere di un modo di concepire la vita grazie per l'attenzione grazie a tutti